Il mio padre è portato insieme a papà mio e portato quasi tutti in Sicilia. Mio padre è andato a un paese che si chiamava Santo Stefano Quisquina, da vicino Palermo, Santo Stefano Quisquina. C'erano lui e altri centinaia di abitanti di Anzio, poi c'erano quelli di Nettuno, altri l'hanno portato in Calabria, a paesi della Calabria dove c'era la possibilità di metterli in abitazioni perché dove li metti? Tu porti una nave che porti due o trecento persone, quattrocento persone dove metti? Mica poi metti a dormire sotto l'arberi, devi trovare i posti dove puoi occuparli. Allora con le navi, loro partivano da Anzio e le navi imbarcavano a Gendia e la portavano via. Grazie. Grazie.